Ah, le polemiche del momento, le polemiche del momento protagoniste dei nostri salottini e adesso parliamo, signori, di fondo schiena. Parliamo del caso Stellar Blade, che non è un caso in realtà, non è niente, ma come sapete su internet si montano i casi sul nulla e si malinterpretano anche tante cose, però in questo caso si parla di Stellar Blade perché è stato visto come il titolo in contrapposizione alla cultura woke. E partiamo da questo assunto, che in realtà è diventato un assunto per via delle varie opinioni che si sono susseguite sull'internetto per sviluppare una discussione che speriamo possa essere interessante e foriera di discussione qui sotto nei commenti, come sempre nel salottino. Sì, perché da un lato abbiamo chi critica, ecco, il personaggio di Eve, questo personaggio così sensuale, che poi non è solo lei, diciamo che tutte le donne del gioco sono belle, ben dotate, se vogliamo, prokaci, ecco questo modello perfetto, che poi si basa su una modella vera, però sicuramente una modella dal grammar fisico. Le hanno enfatizzato comunque le forme, questo sì, cioè l'hanno comunque risaltata, sì. E quindi c'è chi l'ha criticata perché effettivamente non è il modello standard di donna, secondo in molti, va a reiterare quell'idea che gli sviluppatori di videogiochi, che sono principalmente uomini, non fanno altro che creare un ideale di donna, cioè quello è l'ideale di donna che tu devi seguire, esiste solo quel corpo femminile e noi lo abbiamo creato perché piace agli uomini e basta. Quindi solo per saziare gli occhi dei giocatori maschi, infatti gli sviluppatori effettivamente hanno affermato di averla creata così perché essendo sempre vista da dietro deve essere bella da guardare. Io penso che semplicemente Stellar Blade, il personaggio, non volesse essere necessariamente in contrapposizione alla cultura woke. Anzitutto parliamo di una cultura, quella in questo caso sudcoreana, che è molto in linea con quella degli sviluppatori giapponesi, dei designer giapponesi, ovvero che tendenzialmente abbiamo visto se ne sbattono un po' di questi discorsi e ci eravamo passati anche a proposito del tema del razzismo per Final Fantasy XVI. Vi ricordate che inspiegabilmente secondo il popolo occidentale non c'erano in Final Fantasy XVI schiavi neri quando in realtà lo sviluppatore ha dichiarato, sì vabbè ma io se glieli mettevo poi vi lamentavate che c'erano gli schiavi, se non glieli mettevo no e poi in quel periodo, in quell'Europa medievale lì non c'erano comunque schiavi neri. Che poi comunque non è l'Europa reale. Che non è neanche l'Europa reale. Sì perché appunto hai parlato di contrapposizione alla cultura wok perché come stavo dicendo, sì da un lato è stato criticato però dall'altro è stato visto invece come uno spiraglio di luce in un periodo in cui i personaggi femminili sono brutti. Ragazzi ho sentito pure questo, molto spesso viene presa come esempio la protagonista di Fable che è stata mostrata recentemente ma persino a loi come personaggio brutto ragazzi, io veramente alzo le mani e non so più cosa pensare. Non discutiamo qua di quanto possano non essere brutte le protagoniste di altri giochi, ma discutiamo del fatto che indubbiamente anche probabilmente obiettivamente la protagonista di Stellar Blade Evil è effettivamente bella, è avvenente, è come dire con una carica sessuale non indifferente, anche se non è l'unico modello femminile che piace agli uomini se permetti. Detto questo signori io sono per il diritto di tutti i designer, di tutti coloro che hanno in mente un progetto, anche di farlo sopra le righe, esattamente come è stato per esempio per il personaggio di Baionetta. Sono del parere che abbiano quindi tutto il diritto di farlo, soprattutto se lo ammettono in maniera abbastanza plateale e in maniera genuina e ingenua per la serie Oh, a me piace la figa, volevo fare un personaggio figo, che poi è quello che disse anche Yoko Taro a proposito di To Be, quando gli chiesero ma come mai hai fatto così scolpito il suo CD, perché a me piace la Tregna? Difendo sempre le scelte del creativo, se a loro piace mettere una protagonista così, lo facessero, non è loro responsabilità rappresentare le persone, rappresentare tutti. Io non sono rappresentata, non è rappresentatore anche Raiden quando gioca, che ne so, a God of War. Oddio, molti mi stanno dicendo che sto diventando Kratos, non so cosa intendano. Si, diventerai tipo Kratos, però anche i personaggi maschili sono molto belli, hanno dei fisici allucinanti, che non rappresentano tutti, ma non è appunto responsabilità degli sviluppatori rappresentare, ma raccontare una storia con i loro protagonisti ideali. Nessuno impedisce a tante donne che si sono lamentate di creare un loro videogioco con il protagonista o la protagonista come vogliono loro. C'è questa contrapposizione quindi di Stellar Blade a un pubblico woke, a dei creator di videogiochi woke, quando in realtà non è necessariamente questo. Non è detto che gli sviluppatori di Stellar Blade, i designer, insomma, del personal character designer, volesse questo. Cioè, semplicemente, e ha risposto molto candidamente, è perché a lui piaceva vedere un bel fondoschiena. Poi possiamo anche distanziarci dal gioco, perché effettivamente non ci piace proprio per questo motivo. Ognuno di voi è libero di fare quello che vuole, ma non si deve sempre ridurre tutto a una becera e mera propaganda woke o anti-woke per qualsiasi cosa che esce. Attenzione, perché vado a difendere anche l'altra controparte, perché se esce appunto Fable, che ha protagonista brutta, e allora è propaganda woke. Se esce un gioco invece come Stellar Blade, con la protagonista figa da stare male, allora è propaganda anti-woke. Io sono in totale disaccordo sia con chi dice che la protagonista di Fable è brutta, quindi non me lo gioco, anche perché è propaganda woke. Per me non lo è. Volevano fare quella protagonista un po' caratteristica, definiamola così, perché è brutta, insomma, caratteristica. Però non è detto che lo volessero fare per propaganda woke. Sì, signori, c'è sempre, soprattutto per quanto riguarda le protagoniste femminili o comunque i personaggi femminili, scatta questa polemica qui. Abbiamo parlato della barba di Eloy e che due palle. Abbiamo parlato di un sacco di queste cose. Quando non c'è realmente nulla di cui parlare, niente, giochiamoci i titoli, vediamo se effettivamente sono validi per quello che sono e rispettiamo la scelta di un character designer che ha voluto fare la protagonista provocante e sexy, così come quella di un character designer che ha voluto fare la protagonista bruttina, ma più comune, se così vogliamo dire, perché il gioco può valere comunque la candela. Li avete eletti voi, non mi riferisco a voi che state guardando il video, non necessariamente, ma là fuori il pubblico, soprattutto per l'ennesima volta americano, e ci sono stati diversi articoli a tal proposito, soprattutto di siti americani, li avete definiti voi come bandiera del woke o bandiera dell'anti woke, solo perché la protagonista è bella o è brutta. Ma di che cosa stiamo parlando? Dobbiamo fare diventare i videogiochi che già vengono visti da tanti come una merda ultimamente, dobbiamo farli diventare come manifesto sostanzialmente politico, signori, ma davvero, io feci un video circa un anno fa che si intitolava La verità è che ci siamo rotti il cazzo. E la verità è questo, cioè il messaggio di fondo mio era proprio questo, poi capisco che sia stato anche strumentalizzato quel video per la serie, vabbè Raiden giustamente gli piaceva figa e quindi deve dire questo. No, non è questo, il discorso è il mio, a monte da persona matura che se ne sbatte le palle di tutti questi sottodiscorsi che vengono fatti da un pubblico neanche realmente interessato al videogioco, ma a discutere della fazione politica che il videogioco attira. Ci stiamo ritrovando a non parlare più veramente di videogiochi, ma poi tra l'altro ragazzi anche su YouTube stessa fanno molto più video in cui si parla di altri che parlano di videogiochi, di dissing a destra e a manca, piuttosto che veramente parlare dell'argomento per cui noi siamo qua a parlare. Ora, che discorsi sono? Il culo di Yves ha aiutato a fare marketing su gioco? Certo, non possiamo negare di no. È chiaro che si sia parlato di Stellar Blade, tra l'altro ribattezzato Stettar Blade per due motivi, sia perché il titolo sembrava una delle T. Sì, infatti. Perché il trattivo la metti su lei. Scusa? Sì, perché comunque Stettar tetta e bla bla bla. È chiaro che poi entra in gioco anche una certa leggerezza della valutazione e dobbiamo essere in grado anche di affrontare questa leggerezza, pur essendo poi persone profonde, che magari non tratterebbero seriamente con leggerezza il tema del maschilismo, del sessismo, ma semplicemente in quel momento si sta affrontando la situazione per quello che lo sviluppatore in questo caso ci propone, ovvero con leggerezza. Per la serie l'ho fatta così, perché mi piace così e mi piace di vedere il culo. Non è un personaggio reale, seppur basato su una modella reale, vabbè, però non ci si vede necessariamente nulla di male. Ma quando mai si parla del fatto che, per esempio, gli uomini debbano essere tutti muscolosi perché Kratos, oppure Nathan Drake è bello, oppure che ne so, tanti altri protagonisti sono sempre stati belli e muscolosi, eppure noi abbiamo detto, vabbè, sti cazzi, bello, cioè che voleva, uno con la panza. Io ho parlato del fondoschiena di Solid Snake. Parliamo del fondoschiena di Solid Snake. Che distraeva molto in Metal Gear Solid 2, scusate. Poi non lo so, ragazzi, e poi di base è ancora un'altra cosa. Io sono così appassionato di videogiochi che, a parte qualche battutina che ho fatto quando ho giocato la demo, perché poi a un certo punto ci si scherza anche, però è anche vero che io poi mi sono focalizzato sul gioco in sé, neanche stavo pensando più a lei. La vogliamo prendere con più leggerezza e non condannare le cose a priori o farne manifesto di movimenti politici, anche quando non è il caso, e anche se fosse il caso, cerchiamo di calmare la situazione e di ridurla e di condurla a uno stato di maturità migliore perché solo così possiamo crescere anche sotto il profilo di persone che analizzano i videogiochi per quello che sono, io sono convinto anche che qualcuno scriverà vabbè Raiden ti sta infervorando perché è un gioco Sony e se sonaro. Vabbè, di qua non se ne esce. A me non me ne frega proprio una mazza. Abbiamo difeso anche Fable per la scelta di inserire la protagonista che vuole. Ecco, su questo non c'è dubbio. Se fosse stato un gioco Xbox non avreste fatto neanche il video. Va bene, signori, va bene. A parte che l'abbiamo fatto il video sul discorso di Fable. Grazie mille ragazzi, alla prossima. Ciao. Grazie mille. No. No. No.